È una quercia di quasi 400 anni e per la sua importanza e unicità è stata anche inserita in un libro dedicato alle 50 piante da salvare nella regione. È la quercia che si trova tra i monti delle Cesane verso la torre in zona privata. L'appello per salvarla arriva da Alberto Crinelli che chiede di intervenire per tutelarla essendo un monumento naturale. Sì, siamo qui per far notare questa pianta secolare perché se consideriamo questa pianta sicuramente ha sui 400 anni per le dimensioni e per la maestrosità che ha. Come vediamo, se notiamo al centro, notiamo un tronco quasi principale completamente secco. E questo perché? Perché probabilmente è stato beccato da un fulmine perché si vede proprio lo squarcio, lo squarcio che ha spaccato in due questo ramo, uno dei tanti rami giganteschi che ci sono all'interno della pianta. Perciò si spera tanto che qualcuno, l'amministrazione, la forestale, il privato faccia qualcosa per salvare questa pianta. Salvare perché? Voi considerate che questa pianta c'era quando c'era anche il Duca Federico e qui vicino noi abbiamo un fosso che si chiama il Fosso del Duca, dove c'è anche il mulino del Duca, dove all'epoca, probabilmente anche il Duca, occhi per lui, tutti gli urbinati, non solo qui, ma quelli di questa zona venivano a macinare il grano. Perciò ha fatto la storia questa pianta, perciò ha visto tantissime cose, è troppo bella per non intervenire. Certo, un problema sicuramente può venire fuori, cioè qual è? Chi deve fare l'intervento? L'intervento, non lo so, l'amministrazione, non so a chi compete, alla comunità montana o addirittura al privato. Perciò sentiremo un po' tutti e a sua volta mi posso sbilanciare anche nel dire che alla fine anche le associazioni che sono nel territorio, che sono amanti di queste cose, perché anche il CAI che fa escursioni in tutta la provincia, in tutta la regione, anche nella zona delle Cesane, spesso e volentieri è venuto qui a passeggiare, a far vedere. Siamo orgogliosi di questa pianta, perciò ci teniamo e la vogliamo conservare. Speriamo di essere arrivati in tempo, speriamo di intervenire al più presto possibile, perché come si vede bene dalla ripresa c'è un'inserzione, uno squarcio ben netto. Se quel taglio non arriva in profondità, la pianta ancora si salva, però questo si vede nel momento in cui si fa l'intervento. Una volta che si asporta la parte malata, l'esperto, che non sono io, naturalmente, vedrà cosa fare, come intervenire per poterla andare avanti negli anni. Siamo qui sotto, le dimensioni le vedete, nella parte mediana è 5,60 metri, nella parte bassa sono 6,40 metri di circonferenza. E poi c'è da far notare che nel 1984 un appassionato ha scritto un libro, le 50 piante da salvare nelle Marche, e ha in pratica descritto anche questa pianta, ha citato anche questa pianta, dicendo che in questa zona qui vicino ce n'era un'altra ancora più grossa, che era in un punto critico che lui non è riuscito a fotografare, però l'ha vista da lontano. Che dire, la zona si vede che è una zona buona, ci sono due fossi, il fosso del lupo alla mia sinistra, il fosso del duca alla destra, perciò il terreno si presta per queste cose. Giustamente anche per fare in modo che questa duri di più nel tempo, perché sicuramente l'altra nell'arco del 1984 ad oggi, che sono 36 anni, 36 anni la pianta o la neve del 2012 o qualcos'altro l'ha fatta cadere, perciò si è trovato che era già inclinata con il peso suo, con magari il vento o qualche altra malattia, perciò vale la pena veramente dargli un'occhiata e provare a salvarla.